Mister buongiorno, partiamo subito come solito dalle note dolenti, si è fermato anche Ekuban in settimana ma ritrovate Badel, è questo il quadro, gli altri sono tutti quelli che sappiamo che sono rimasti a casa in vista della partita di domani con la Lazio. Gollini, Messias, Vitigna, Ekuban, De Winter, Bani e sappiamo tutti di Malinowski, purtroppo in uno scontro di gioco durante un allenamento Caleb ha riportato di nuovo un problema muscolare, dispiace per il ragazzo, dispiace perché era già da qualche giorno che si allenava con noi, quindi è un'altra perdita importante. Sì, ritroviamo Milan, Badel, anche lui sto facendo delle considerazioni in vista della partita di domani, sia che possa iniziare dall'inizio o che può dare un contributo entrando a partite in corsa, anche perché abbiamo in 12 giorni 4 partite, quindi non posso permettermi in questo momento di rischiare certi tipi di giocatori, per noi Milan è un giocatore importante e quindi sto facendo le dovute valutazioni. A proposito della partita di domani, la Lazio ha giocato giovedì ma è una squadra che ha ambizioni e obiettivi ben diversi. Il Genoa ha visto però nel finale della gara col Bologna, è tornato forse il suo Genoa come spirito, come critica, ha delle assenze, va bene, tutto quello che vogliamo, però si è rivisto quella carica, quel morale che era mancato forse in alcune partite? Per quanto riguarda la squadra che andiamo ad affrontare domani, la Lazio sia in campionato sia nelle competizioni europee sta facendo ottime cose, ha giocatori di grande qualità, è una squadra, ha un'identità forte in merito dell'allenatore che ha fatto tanta gavetta e ha meritato sul campo questa panchina e questo momento anche importante della sua carriera. Hanno giocatori che determinano all'interno della partita e della gara con le loro qualità tecniche perché basti pensare a Isaacsen, Zaccani, Castellanos, giocatori di esperienza come Guendusi, Vessino, Rovella, quindi abbinano qualità e esperienza. Hanno un giocatore come Pedro che ha vinto tutto, che quando gioca fa la differenza, quindi è una squadra importante di questo campionato, sappiamo che squadra andiamo ad affrontare. Da parte mia c'è positività nel vedere questa settimana di lavoro che ha fatto la squadra e che hanno fatto i ragazzi perché sono stati tutti dentro l'allenamento, hanno lavorato molto ma molto bene e quindi questo è un aspetto molto positivo per me. Buongiorno mister, io volevo chiedere di Gaston Pereiro e di Miretti. Il primo l'abbiamo visto che stava per subentrare nella partita col Bologna, poi non è entrato, è entrato anche io e il secondo invece poi ha parlato lei dopo la partita dicendo che ci vorrà ancora tempo per vedere il vero Miretti. A che punto siamo per entrambi a livello di condizione e quanto tempo ci vorrà per vedere il 100%? Per quanto riguarda Gaston sta facendo una mini preparazione perché come vi avevo già detto nelle precedenti conferenze deve lavorare, deve lavorare tanto per ritrovare la forma fisica migliore, quindi abbinato ai lavori con la squadra fa dei lavori personalizzati sia di corsa che di forza per farlo tornare al top della condizione. Per quanto riguarda Fabio è un giocatore che va aspettato, è un giocatore che va supportato, è un giocatore che ha ottime qualità tecniche ma so benissimo e sappiamo tutti benissimo che anche lui arriva da un periodo lungo di inattività per il problema al piede che si è portato dietro per diverso tempo e quindi va mantenuta la calma nei suoi confronti sia nei giudizi sia in quello che può dare in campo in questo momento. Ciao mister, hai parlato prima delle quattro partite in 12 giorni, insomma un ritmo molto pesante, ecco venite da un mese in cui avete avuto tanti tanti infortuni, tra l'altro alcuni anche tolto quello di Malinowski ma gli altri muscolari, alcuni anche particolarmente lunghi, fastidiosi. Vi siete dati qualche spiegazione su quello che è successo in questo periodo? Dipende dalle caratteristiche dei giocatori, dal fatto che avete perso i giocatori e quindi avete dovuto magari mettere in campo gli stessi per un lungo periodo? Io non credo che bisogna dare le colpe a nessuno ma bisogna trovare soluzioni quando capitano questi tipi di momenti perché uno su tutti se basti pensare all'infortunio di De Winter che è stato totalmente casuale e nazionale mentre faceva i due tocchi con altri quattro suoi compagni è stato un infortunio, non c'è stato nessun tipo di scatto, nessun tipo di allungo, nessun tipo di contrasto e quindi è scivolato su un pallone e si è lesionato un muscolo. Quindi questi tipi di momenti. Caleb stava bene, aveva grande entusiasmo nel rientrare, in uno scontro di gioco ha sentito questo problema, questa fitta. Vitigna è un discorso un po' più diverso perché è un discorso un po' più lungo, stessa situazione comunque di Mattia, di Bani che sta mantenendo un percorso per rientrare e poi per non riuscire più. Quindi questa è la volontà di questo momento, cercare di, anche se è vero che siamo in difficoltà a livello numerico, ma non possiamo permetterci di sbagliare più, questa è la verità. Quindi sui rientri, su cercare di mantenere lucidità e di dare sicurezza ai giocatori, questo diventa fondamentale. Ecco ti faccio un'altra domanda a cui avevi già in parte risposto la settimana scorsa, però è chiaro che gli eventi si susseguono e quindi è giusto farla. Tutta la settimana che si fanno tanti nomi disvincolati, io ti chiedo qual è la tua posizione e a che punto siete per quello che tu sai. Allora, in questo momento la mia posizione è quella che devo pensare ai giocatori che ho a disposizione e devo pensare, e sono concentrato, siamo concentrati, io insieme alla squadra, insieme a chi ho a disposizione per la partita di domani a Roma con la Lazio. Questo deve essere chiaro ed è determinante. È un dato oggettivo e chiaro a tutti che sicuramente siamo in emergenza a livello numerico di caratteristiche in alcuni reparti, come può essere quello offensivo, perché con Ecuban, Bitigni e Messias che non ci saranno per tanto tempo è normale che ci sono delle valutazioni da fare e io ho già parlato alla società e quindi questo è normale. Però la cosa certa di questo momento e vedendo anche la settimana di lavoro che abbiamo fatto è quello che possono portare i ragazzi in campo domani nella partita contro una grande squadra ed è quello che sono sicuro, sono convinto che andremo a Roma per battagliare, per combattere. Quello io sono convinto e sono convinto per aver visto questo tipo di settimana da parte dei ragazzi. Questa è la cosa certa e poi per altre cose non dovreste chiedere solo a me. Ciao mister. Abbiamo visto nella scorsa partita delle soluzioni diverse a livello tattico. Stai pensando anche per la prossima a situazioni o difesa a quattro o Tosby in questa posizione un po' più avanzata? Sì, so e ho letto che non è piaciuto Tosby come seconda punta, come attaccante, ma il riferimento ai discorsi che faccio io sull'economia, sui numeri e sulle caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione in questo momento vanno a fare riferimento alla gara che dura 100 minuti, quindi nelle valutazioni di chi ho in panchina, di chi posso far giocare dall'inizio. Quindi sono tutte situazioni in cui devo tener conto, perché in questo momento le vere attaccanti sono Ecator e Pinamonti. So benissimo anch'io che nel momento in cui faccio giocare Tosby un po' più vicino ad Andrea non è il suo ruolo naturale, ma mi può dare determinate cose che magari in questo momento ci servono a inizio gara o nel corso della partita. E devo pensare anche dal 55esimo in poi, in questo momento devo fare delle valutazioni proprio generali sotto questo punto di vista. Faccio un po' il cattivo, ma alleggia il nome di Balotelli, lo faccio io. Tu gli hai parlato, lui sarebbe pronto a venire, al di là del rispetto per il gruppo, per la squadra, ma lui hai parlato di emergenza giustamente. Potrebbe essere un profilo? Sì, assolutamente, nel senso che è un giocatore svincolato, è un giocatore che conosco, è un giocatore che la sua storia parla da sé, è un ragazzo secondo me che ha ancora quella motivazione dentro di sé, quel fuoco che gli serve e gli servirebbe per poter fare ancora bene. Però, come ho detto prima, è troppo in questo momento, vista la partita di domani e soprattutto per i miei ragazzi, la mia squadra è riduttiva a parlare di chi non c'è in questo momento, sia che possiamo parlare di lui o di altri giocatori. La società comunque sa quello che è il mio pensiero, perché è chiaro a tutti, credo. Quindi questa è una cosa importante. Normale che sono già da due o tre settimane che si parla di alcune situazioni, siamo un po' in ritardo, naturalmente, visti le problematiche oggettive che abbiamo a livello numerico in alcuni reparti. Anche in difesa, perché siete veramente contati da Deu Inter a Bani, avete questi ragazzi che hanno fatto l'esordio come Marcandalli, ma Turro stesso, insomma, anche lì c'è una situazione, devi lavorare parecchio. Sì, trovare accorgimenti sia tattici sia di uomini. Credo che questo sia un momento, come ho detto la scorsa settimana, e poi la squadra ha dato una risposta al secondo tempo di attaccamento, di forza, di voglia di andarsi a riprendere il risultato. Sì, è un momento di, come c'è il cielo fuori oggi, come è la giornata di oggi, un po' di temporali, di tempesta, ma sono fiducioso e sono positivo che si possa vedere presto la luce, in tal senso, perché vedo allenarsi i ragazzi, ribadisco quelli che ho a disposizione, vedo l'intensità, vedo la volontà, vedo la determinazione che loro ci mettono in ogni allenamento. Ce ne sarebbero parecchie domande. La principale è quella su Torsby, Torsby vicino a Pinamonti. A questo punto, considerato che quando prendiamo gol, riusciamo a mettere sotto tutte le altre squadre, non è meglio iniziare cercando di attaccare e dopo difendersi, perché molto probabilmente siete più bravi da questo punto di vista. Questa è una mia considerazione, cioè fare un gol e dopo cercare di difenderlo, di portarlo alla fine. Sì, sono tutte valutazioni che io, insieme allo staff, andiamo a fare nella settimana, nel lavoro, nell'economia dei ragazzi e delle caratteristiche, soprattutto dei ragazzi che abbiamo a disposizione, nell'equilibrio che vogliamo mantenere all'interno della partita, senza andare a sbilanciare la partita. Quello di avere comunque un baricentro un po' più alto, si è visto anche il secondo tempo con il Bologna, c'è la volontà, ma è normale che bisogna avere degli accorgimenti mentali e tattici per farlo che siano oliati, che siano perfetti. Ecco, la seconda domanda è perché noi siamo veramente col sedere per terra, perché tutti ci offendono, tutti non sapete fare i giornalisti, tutti non avete le notizie, tutti non avete cosa, qua dentro non esce una mosca, ma da parte di tutti, da parte di tutti. Per esempio, sugli infortuni, io sono dovuto andare a cercare preparatori atletici, dottori di altre squadre, dopo 25 anni conosco parecchi, non è che mi abbiano dato tante speranze su Messias e su Ekuban, che appena li facciamo rientrare saranno a posto, perché mi hanno spiegato che la loro fibra ottica è dura, avendo subito tanti di quegli infortuni alle gambe in quella maniera, e perciò la mia preoccupazione è questa, tu sei l'unico che ti stai preoccupando, non solo dalla partita di domani, delle quattro giornate che dobbiamo giocare, che non sono mica quattro giornate da poco, perché arriviamo a tredici, sei l'unico a preoccuparti, perché se no qualche cosa sarebbe successo in questa quarantena di calciomercato che ci stiamo giocando, che arriva e che non arriva. Sì, diciamo che sono cosciente, lo ero anche un po' di settimane fa, un po' di mesi fa, cosciente tuttora del momento e di quello che poteva accadere nel futuro. Detto questo, abbiamo auspicato quest'anno, e la verità è questo, ad avere a disposizione due giocatori come Junior e come Caleb, che sicuramente nell'economia della squadra, sia che potessero partire dall'inizio o anche in corsa, facevano e fanno la differenza. Questa è la verità. Quindi nel momento in cui io, lo staff, nel momento in cui ho parlato anche con la società, questo parlo di qualche mese fa, è normale che si puntava tanto, e puntavo tantissimo su questi giocatori. Il dispiacere è enorme, però non possiamo farci nulla al momento. Io devo pensare ai ragazzi che ho a disposizione e devo farli rendere al 110%. Questa è l'unica cosa che mi permette di rimanere focalizzato sull'obiettivo e nel cercare di dare motivazioni a quelli che ho, nel cercare di migliorarli singolarmente, di migliorare la squadra. Siamo coscienti del momento, Lino, questa è la verità e dobbiamo assolutamente tenere botta, come si dice, perché è un momento particolare. La serietà del tuo gruppo, quello che lavoro con te, è ormai riconosciuta, è riconosciuta da tempo, è riconosciuta da tempo, parlando con altri preparatori, perché tutti dicono che è colpo della preparazione, è colpo di questo, è colpo di quell'altro, è colpo di questo. Voi farete tutto quello che fanno tutte le squadre, perché mi hanno detto che squadre tutte le mattine fanno un briefing con ogni calciatore per vedere come ha passato la notte, che c'è il GPS su tutti, ci sono altre tecnologie e sono tutte cose che non si possono prevedere. A questo punto, gli altri che si sono infortunati ce l'hanno tutte le squadre, il friend up, questo, quell'altro, però c'è da dire che quelli che si infortunano sono quelli che hanno avuto più infortuni nella loro carriera, è tutto qui. E questo è il pericolo. Tutto quello che noi possiamo fare per i ragazzi l'abbiamo sempre fatto in questi anni, lo continuiamo a fare, li monitoriamo, sia sotto il punto di vista totale del sonno, della nutrizione, dell'aspetto fisico, oltre che tecnico-tattico naturalmente, ma tutto ciò che noi possiamo cercare di elevare, cercare di migliorare, ogni singolo giocatore lo facciamo. Non sono prevedibili gli infortuni, o a meno, certi tipi di giocatori vanno gestiti in un certo modo, però alcuni infortuni che ci sono stati ultimamente, come ho detto prima di The Winter è stato molto, molto particolare, veramente molto, molto particolare. Mattia, Banni, anche lui si porta dietro uno strascico di un infortunio precedente, quindi ci auguriamo che già dalla prossima settimana possa far parte della squadra, quindi sarebbe un rientro in più. Per quanto riguarda Caleb, Vitigna e Junior i tempi sono un po' più lunghi e è naturale che ci auguriamo anche loro che possano tornare al meglio della condizione, al massimo e che ci possano dare una grande mano. Per un'ultima cosa, io torno invece sul campo. Campo, spesso si dice, i giocatori che subentrano, la pressione sui giovani, i giovani invece, forse perché magari li conosci già bene, avendo allenato anche la primavera, continuano a sorprendere in positivo, ma visto che si dice spesso la pressione, la pressione, la Spagna con un'Andrea 17 ha vinto l'Europeo, ora non siamo a quel livello, però i giovani che tu ti sei portato dietro sono giovani che hanno dimostrato di poterci stare. Possono avere da qui davanti, viste le cose, molto più spazio? Sicuramente, come ho sempre dimostrato, abbiamo sempre dimostrato, da Onest, Eccator, Masini, a Cornero, è rientrato Filippo Melegoni, ha giocato subito, quindi non ho preclusioni per nessun giocatore e per nessuna età. Nel senso, se uno mi dimostra dentro l'allenamento in settimana, assolutamente sì.